Non ci sarà un altro duello televisivo tra Trump ed Harris, lo ha fatto sapere il tycoon sul suo social truth scrivendo «Ho vinto io il primo duello, non ci sarà un terzo dibattito». In tal modo l'ex presidente degli Stati Uniti ha incluso nel conteggio delle sfide il faccia a faccia con il presidente in carica Biden. Nel frattempo, dopo il duello TV di martedì, Harris rafforza di 5 punti il suo vantaggio. Come detto, annunciando che non ci sarà un altro dibattito con l'attuale vicepresidente, Trump rivendica di aver vinto quello che martedì è successo e scrive «Quando un pugile perde un combattimento, le prime parole che escono dalla sua bocca sono «Voglio una rivincita». I sondaggi mostrano chiaramente che martedì sera ho vinto io. Se pubblicamente Trump e il suo staff sostengono la vittoria nella sfida televisiva contro Harris, i principali consiglieri del tycoon ammettono che è improbabile sia riuscito a convincere gli elettori indecisi. Secondo l'ultima rilevazione, la candidata Dem è in vantaggio con il 47% delle preferenze contro il 42%, una crescita di 5 punti.